Noi abbiamo accolto molto volentieri l'invito da parte di Aruba perché è un partner con cui abbiamo lavorato e lavoriamo tuttora per cambiare il mondo del data center cercando di migliorarlo e cercando di proporre soluzioni che possano risolvere problematiche che affliggono i clienti che ne usano i servizi. Oggi qui a DoIT Now abbiamo avuto la possibilità di parlare con i CTO, i CEO, CSS, CISO, tutti quegli innovatori di questo settore e abbiamo potuto capire quali sono le sfide, le problematiche più sentite per cercare di settare delle collaborazioni per trovare delle soluzioni più efficaci. Noi vediamo cinque grandi trend nel prossimo futuro che sostanzialmente siamo sicuri che riusciranno ad accelerare l'adozione del digitale e che insomma avranno un impatto rivoluzionario in ogni settore. Parlo della Pervisive Connectivity quindi tutto è connesso e ci permette di raccogliere dati. Ubiquitous Computing quindi capacità computazionale apta a migliorare l'esperienza di utilizzo dei servizi quindi concentrarsi sull'esperienza d'uso piuttosto che Cloud to Edge quindi un'infrastruttura che si evolve andando ad affiancare Intelligent Device quindi Edge Device ai servizi Cloud, questo proprio per dare una maggiore prossimità e vicinanza lì dove serve. Intelligenza artificiale è il quarto quindi analizzare tutti i dati raccolti per estrarre del valore, estrarre informazioni importanti e l'ultimo è il sensing perché in questa evoluzione nel cambiamento del mondo analogico in digitale questo può amplificare notevolmente tutti i nostri sensi appunto in un'ottica digital. Ad oggi ci si è concentrati molto su proteggere i dati all'interno del data center quindi nello storage oppure i dati in transito verso il data center. Ci si è preoccupati meno di proteggere i dati in esecuzione e Intel in questo senso offre una tecnologia che si chiama SGX, Secure Guard Extension che è in grado di introdurre questo nuovo livello di sicurezza praticamente funziona come un enclave protetto, accessibile direttamente dall'applicazione e quindi bypassa tutti gli strati del sistema operativo delle virtual machine andando a ridurre notevolmente quella che è potenzialmente la superficie di un attacco esterno tra l'altro questo è la base, il fondamento del confidential computing quindi la protezione di dati sensibili senza che questi vengano esposti al resto del sistema e SGX lavora proprio in questo senso quindi protegge i dati soprattutto quelli più sensibili controlla gli accessi a questi dati e ne tutela la privacy quindi aziende che trattano dati sensibili quotidianamente possono trarre molti benefici da questa tecnologia pensiamo alla pubblica amministrazione, il campo ospedaliero, medico in generale o quello finanziario quindi stiamo anzionando in generale ugliossi cerchiamo quindi anche per la parte di un attacco di un attacco è così ciò di distinco di attacco di un attacco di un attacco, di un attacco